Il campionato di Serie 3 al Giro di Boa si gioca l'ultima giornata del girone di andata con le abruzzesi entrambe fuori casa. Nel girone bianco il Pineto sarà impegnato a Montecchio Maggiore, avversario mediocre che finora ha raccolto ben poco, 12 punti che valgono il decimo posto. I Terramani hanno ripreso a marciare dopo la brutta parentesi di San Giustino. Aver perso la vetta della classifica complica un po' i piani in chiave Coppa Italia. Intanto però bisogna tornare dal Veneto con il bottino pieno. Per i quarti di finale c'è tempo fino al 18 gennaio. Nel girone blu la ritrovata impavida sfida in Sicilia e il Catania, gli ortonesi proveranno a fare il colpaccio per mantenere il primato e laurearsi campioni d'inverno. I ragazzi di Nunzio Lanci, dopo un avvio di campionato incerto, sono andati crescendo inanellando ben 5 vittorie nelle ultime 5 giornate, ritrovando gioco e convinzione. Tanto basta per portare in porto l'ambizioso piano della società desiderosa di tornare nella categoria superiore.